Grazie alla delibera di consiglio approvata il 12 settembre da quest'anno, ovvero dal 15 novembre al 31 dicembre, ci si potrà accreditare al Forum Comunale dei Giovani. È un organismo nuovo che abbiamo istituito formalmente come Comune di Pesaro e che raccoglie le grandi esperienze di partecipazione e di confronto che abbiamo già avuto con i giovani negli ultimi anni. Tavoli giovani, tavoli studenti, spazi underventi. Abbiamo fatto ordine, abbiamo consentito e consentiremo a coloro che sono rappresentanti di associazioni giovanili, associazioni culturali, mondo del terzo settore, mondo del lavoro, associazioni di categoria, rappresentanti degli studenti, rappresentanti universitari e anche singoli come anche rappresentanti di associazioni informali, gruppi informali, di partecipare a un bel luogo di confronto. Un luogo di confronto che darà modo all'amministrazione di avere un canale di comunicazione esclusivo con cui fare attività propositiva e consultiva, quindi a cui proporre le delibere, le scelte che si faranno come amministrazione, ma saranno poi gli stessi giovani a proporre all'amministrazione con canali diretti, proposte, idee e chiaramente anche critiche perché saranno tanti momenti di confronto e siamo sicuri che saranno anche tanti i ragazzi e le ragazze che si accrediteranno a questo nuovo forum. Invito tutti ad andare sul sito del Comune di Pesaro, Informa Giovani, troverete la sezione Forum Giovani con cui potrete leggere il regolamento, se potrete accreditarvi e quindi se siete giovani tra i 16 e i 29 anni quasi sicuramente sì e tra il 15 novembre e il 31 dicembre troverete anche il forum di registrazione con cui poter partecipare effettivamente ai lavori che partiranno da gennaio.